È totalmente falso. Evidentemente che è un montaggio che avrà le sue conseguenze legali, politiche, perché non si può permettere di fare una notizia dove documenti falsi, informazione falsa, attacchi falsi. Allora dobbiamo rifiutere totalmente quello che sta scritto lì come un montaggio falso totalmente. In Spagna e in Madrid specificamente sta la cupola dell'ultravesta fascista venezolana che vive lì da molti anni. Certi paesi hanno riconosciuto a Guaidò come presidente, grazie a Dio l'Italia con la saggezza del presidente Mattarella ha saputo confirmare la presidenza di Nicolás Maduro. Situazione che dobbiamo dire pure che grazie al Movimento 5 Stelle ha preso la corrente di dire lo stesso che ha detto Mattarella. Il presidente del Venezuela si chiama Nicolás Maduro. Noi mai abbiamo tenuto i rapporti con il Movimento 5 Stelle, siamo un movimento che è nato con Ugo Raffaele Ciave Frias, da un colpo, da un movimento popolare. Allora non abbiamo vincoli politico, vincoli ideali, siamo un'organizzazione politica rivoluzionaria e noi abbiamo rapporti con i fratelli che hanno questa tendenza a cambiare le cose di maniera strutturale. I rapporti nostri stanno più che altro con paesi come Nicaragua, Cuba, Turchia, Russia, Cina, i paesi non allineati dell'Africa, tutti quelli che stanno in posizione di guerra contro l'imperialismo nordamericano. Rappresenta pure una presa in giro per la sicurità, una delle sicurità più importanti, istoricamente più complessi e più, ripeto, importante della sicurità d'Europa come la sicurità italiana. Come fa uno per arrivare a un aeroporto come Malpensa, Linate, Fiumicino e prendere una valigetta con 3.5 miliardi di euro è una cosa impossibile, è una cosa che non entra, come diciamo noi in spagnolo, nell'argot popolare. La gente dirà questo è una pazzia, questo non si può, è impossibile. Quello che mi chiama l'attenzione è veramente che questa è una notizia vecchia, è uscita già nel 2016, oggi nasce in Spagna e scoppia in Italia e scoppia praticamente, nemmeno quando valutiamo attacca direttamente, attacca sì, ma non c'è repercussione sopra il governo di Maduro, sopra Giancarlo Di Martino, sopra Tarea Lisame o il ministro della difesa, c'è più repercussione sopra il Movimento 5 Stelle. Allora se c'è repercussione sopra il Movimento 5 Stelle ci sono interessi politici contro il Venezuela, però pure contro il Movimento 5 Stelle. Sarà 5 Stelle che deve analizzare pure che situazione c'è e come valutare loro questa difamazione. Il presidente Maduro ha detto che vengono elezioni all'Assemblea Nazionale Costituzionale, faremo un nuovo Parlamento. Quella notizia è uscita ieri, il presidente annunciando elezioni, chissà per novembre o dicembre, e stamattina esce questa notizia. Penso che vendrà una scalata di notizie in contra del presidente Maduro e in contra dei suoi collaboratori, come tutta una struttura difamatoria che, come lo fa sempre l'opposizione, che non c'è progetto, non c'è lidere, non c'è un modello economico che presentare. L'unico ricorso che può utilizzare è la difamazione contro i collaboratori del presidente Nicolás Maduro e contro il governo di Nicolás Maduro e alcuni aliati a livello internazionale.